Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 2.091 tamponi, 1.420 nel percorso nuove diagnosi, di cui 725 nello screening con percorso antigenico, e 671 nel percorso guariti, con un rapporto positivi testati pari al 20,1%. I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 285, 48 in provincia di Macerata, 125 in provincia di Ancona, 88 in provincia di Pesaro Urbino, 3 in provincia di Fermo, 9 in provincia di Ascoli Piceno e 12 fuori regione. Questi casi comprendono soggetti sintomatici, contatti in ambito domestico, contatti stretti di casi positivi, contatti in ambito lavorativo, contatti in ambienti di vita socialità e contatti in ambito assistenziale, oltre che contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione, screening e percorso sanitario. Per altri 69 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel percorso screening antigenico sono stati effettuati 725 test e sono stati riscontrati 64 casi positivi, da sottoporre al tampone molecolare. Il rapporto positivi testati è pari al 9%. Dal punto di vista percentuale, nel rapporto tra il numero di tamponi processati nel percorso nuove diagnosi e il numero di contagiati, si evidenzia una stabilità rispetto alla giornata precedente, incidenza al 20,07% oggi contro il 21,86% di ieri.